Bene, seconda parte della trasmissione, in studio con me c'è Melio Cimini, giornalista del Messaggero che con lui ovviamente commenteremo quella che è stata la giornata di promozione di ieri. Vi ricordo ovviamente che questo ottavo turno ha visto una vittoria importantissima del Santa Maniera in casa con il Palocco, vittoria che consente alla formazione di Gabriele Domenici di balzare al terzo posto in classifica, terzo posto assoluto. C'è stata la vittoria anche della compagnia portuale che vince in casa con il minimo scarto e ovviamente migliora di poco la sua posizione in classifica. Va male invece al Santa Severa che perde su un campo naturalmente importante come quello del team Nova Florida, neopromossa come il Santa Severa e sconfitta invece secca del Tolfa che sta veramente, come possiamo dire, sta veramente ottenendo dei bruttissimi risultati dopo le tre vittorie consecutive di inizio del campionato, non ha più vinto e sta piano piano scendendo nelle zone basse di classifica. Ma andiamo con ordine per vedere ovviamente come sono andate le cose per intero, chiedo alla regia di mandare in sua compressione il tabellone dei risultati e poi chiaramente vedremo anche la classifica. Almas Roma Nettuno 0 a 1, Casalotti Univo Mezzi 0 a 0, Città di Fiumicina Ufocene 3 a 0, Compagnia Portuale Vista Aurelia 1 a 0, Direttanti Palasche Flebbe Lido Depini 1 a 2, Pescatori Ostia Tolfa 3 a 0, sul campo di Rodolfo Morandi, Ostia Antica Rodolfo Morandi 4 a 0, Santa Marinella Palocco 1 a 0, Team Nova Florida Santa Severa 0 a 0. Allora vediamo che in virtù di questi risultati si è determinata una classifica che vede comunque in testa ancora una volta il Nettuno che è in vetta con 20 punti, il Città di Fiumicino punti 18, Santa Marinella vedete terza posizione a 16 punti, Pescatori Ostia e Foscene 15, Almas Roma 14, Clebbe Lido Depini, Ostia Antica, Team Nova Florida 12, Tolfa 11, Compagnia Portuale 10, Unipomezia 9, Santa Severa 7, Palocco 6, Direttanti Falasche, Bissa Aurelia 5, Casalotti 3 e Real Morandi, Rodolfo Morandi 2 punti. A meglio un breve commento ovviamente, poi chiaramente verremo più specifico nelle formazioni del nostro comprensorio. Allora diciamo subito che ieri erano in programma due scontri diretti che riguardavano le prime quattro della classifica generale. Ebbene in questi scontri diretti il Nettuno ha ottenuto un'importantissima vittoria sul campo dell'Almas, mentre il Città di Fiumicino ha battuto nettamente in un derby, perché Colfocene è un vero e proprio derby, nettamente per 3 a 0. Quindi queste due squadre si confermano in vetta la classifica con il Nettuno che ha due punti a punta sul Città di Fiumicino. E per quanto riguarda proprio il Città di Fiumicino, ieri è rientrato il bomber di Fiandra e si è subito messo in evidenza realizzando una bella doppietta. Quindi è un giocatore sicuramente questo che fa la differenza in una categoria come quella di promozione, lo faceva veramente anche nel campionato superiore di eccellenza e quindi a maggior ragione lo fa in questa categoria. Per quello che riguarda il turno di ieri è meglio, notiamo naturalmente i due risultati negativi, sono quelli del Tolfa che perde appunto nettamente proprio per 3 a 0 sul campo del Pescatori Oste che noi abbiamo visto anche a Santa Marinella e c'era sembrata veramente una squadra di buon livello, di ottimo livello direi, considerando appunto che è quarta in classifica. E poi parleremo ovviamente invece della sconfitta, di questa sconfitta della Santa Severa appunto sul campo della Team Nova Florida. Ecco per il Tolfa, a meglio, priva del suo allenatore perché è stato squalificato per due giornate, quella di ieri è stata una giornata veramente da dimenticare. Sì, sicuramente in questa partita non ci sono veramente alibi per la formazione collinare, una sconfitta pesantissima che la dice lunga sul momento negativo, molto negativo, che sta attraversando la formazione di Mauro Stampigioni. Basti pensare che nelle ultime cinque partite il Tolfa ha incamerato soltanto un bottino misero di due punti dopo le prime tre partite in cui aveva realizzato ben nove punti, era a punteggio pieno, dopo questa squadra si è diciamo un po' disunita e adesso sta veramente attraversando un periodo molto negativo. E vogliamo sapere per quale ragione, meglio, credo che valga molto il fatto che pure lì a Tolfa, quando non vengono i risultati, succede sempre che forse l'ambiente si scalda troppo e costa anche naturalmente delle espulsioni, delle ammunizioni ed ovviamente anche poi delle sconfitte successive. Sì, sì, invece sembra che ieri non ci sia stato nessuno espulso, fortunatamente per il Tolfa. E comunque il Tolfa sta aspettando come una manna dal cielo il recupero di Cascianelli che è dato quasi per imminente, che è un giocatore che potrà diventare il perno di questa squadra, il perno del centrocampo della formazione bianco-rossa. È un giocatore importante che non ha giocato ancora praticamente nessuna partita perché si era infortunato durante il pre-campionato, subito nel secondo allenamento del pre-campionato e quindi praticamente sono tre mesi che sta fuori. Esatto, invece questo Santo Severo che va a fase alterne dopo quella bella vittoria di domenica questa volta esce dal campo del team di Nova Florida con una sconfitta che ne ridimensiona ancora una volta l'opportunità di uscire da quella zona non certamente positiva per lei. Diciamo che dopo la vittoria nel derby con la compagnia virtuale si era creato uno sfrenato entusiasmo in riva al Tireno nella squadra della Santa Sera. Invece ieri questa sconfitta la riporta duramente alla realtà, la riporta con i piedi per terra e quindi per Nello Savino e per tutti i suoi giocatori ci sarà molto da lavorare per cercare di non rimanere invischiati nella lotta per la salvezza. Diciamo che Santo Severo sta risentendo molto, secondo me, l'assenza di un bomber come De Angelis che anche ieri era assente e che mancherà ancora per qualche partita. E invece è normale il successo della compagnia virtuale in casa con la vista oveglia che ricordiamolo è terz'ultima in classifica, un successo però anche abbastanza faticoso. Sì, perché la compagnia virtuale non ha disputato una partita molto brillante. È arrivato questo gol sul fine del primo tempo con un calcio di rigore, sul calcio di rigore realizzato da Maisto, poi nella ripresa però la squadra di Marco Galli ha avuto l'opportunità per mettere al sicuro il risultato, non ci è riuscita e poi nel finale ci sono voluti due miracoli del portiere Nunziate per salvare il risultato e far guadagnare questi tre punti che sono fondamentali per la formazione cita e chiesa. E parliamo invece di questo splendido successo della Santa Marinella contro il Palocco, non inganni il risultato di 1-0 che ovviamente poi lo vedremo anche dalle immagini che fra poco vi proporremo, gli highlights naturalmente di questa partita che metteranno in evidenza le grosse occasioni che ha avuto proprio il Santa Marinella. Dobbiamo dirlo che questa squadra è riuscita nell'arco di pochi giorni, di un paio di mesi a trasformarsi letteralmente rispetto a quella che era la squadra di inizio campionato, una squadra che gioca molto bene a pallone, che sta cercando e sta trovando ovviamente la giusta misura tra reparto e reparto, ha dei giocatori naturalmente che stanno viaggiando sull'onda dell'entusiasmo di questi due Celsi e che stanno dando il massimo di se stessi, l'abbiamo visto già domenica scorsa in quella bella vittoria ottenuta a Pomezia per 4-1 e si è ripetuta anche ieri e qualora se non avesse sbagliato tutte quelle occasioni saremmo a parlare di un successo di larghe proporzioni anche contro il Palocco. Sì, sì, anche ieri insomma la squadra di Gabriele Dominici ha dimostrato tutto il suo valore, le sue qualità che non sono davvero poche, perché ora la squadra di Renica ha raggiunto il terzo successo consecutivo in campionato e a cui bisogna aggiungere anche l'affermazione in Coppa Italia che ha avuto contro il Piano Scorano. Quindi questa formazione sta viaggiando adesso a medie altissime e non a caso si trova al terzo posto in campionato a 4 punti della Coppolista Nettuno e io penso che ora il Santonella avrà un ciclo che io definirei molto importante, tre partite al termine delle quali si definirà veramente quale sarà il ruolo che potrà recitare questa formazione nel proseguo del campionato. Domenica prossima Santonella andrà a giocare sul campo molto difficile del Lido di Pini, poi riceverà proprio la Coppolista Nettuno al Comunale di Via delle Coloni e poi andrà a Santa Severi a disputare questo derby che si preannuncia già molto sentito, insomma molto atteso. Ovviamente sì, ecco queste sono le immagini che vengono dalla nostra emittente che ieri era sul campo di Santa Marinella, condizioni del campo pietose, meglio e ovviamente grosse difficoltà nell'effettuare il proprio gioco. Eh sì, sicuramente, questo campo non aiuta certamente una squadra tecnica come il Santa Marinella, anche ieri c'è visto, inoltre c'è stata un'occasione che poi dovremmo vedere nella quale De Santis, l'imbalzo irregolare del pallone, ha lisciato il pallone e quindi un giocatore avversario si stava approfittando per andare in rete. Ecco, stiamo facendo vedere la prima occasione del gol di Santa Marinella con Gagliardini che si libera bene dall'avversario, vedete l'arbitro ferma per un fuorigioco, secondo il mio punto di vista, ha meglio abbastanza dubbio. E questa è l'azione del gol, calcio di punizione a due in aria, meglio? Sì, paradiso sul pallone, questo è un calcio di punizione che è stato decretato per un palla a due in aria ai danni di Santu. Non abbiamo visto l'azione prima ovviamente che ha determinato questo calcio di punizione, ma adesso vedremo il gol. E vedete il gol di Gagliardini che ha trovato veramente uno spazio limitatissimo, no? Uno spazio pertuggio giusto, non si sa quella palla veramente dove si è passata. Esattamente, questo è il gol. Ma era facile sicuramente. Adesso vedremo e andremo al ventottesimo del primo tempo con un'occasione invece del Palocco, a meglio perché il Palocco ovviamente non è che ha soltanto guardato e basta, questa è forse l'occasione che ha determinato proprio il fallo e così è in effetti, vedete la gamba tesa da parte del difensore della formazione ospite e il calcio di punizione fischiato dal direttore di gara, calcio a due in aria, vedete tra pochettino la gamba tesa, eccola qua la gamba tesa, vedete? Di Fontana, questo è Fontana, il giocatore difensore Fontana. E quindi giusto naturalmente il calcio a due e il gol di Gagliardini, bravissimo naturalmente a trovare il barco giusto e a realizzare il gol dell'1-0, del gol naturalmente che poi la Santa Maria ci ha vinto la partita. Adesso vedremo le altre occasioni e tra poco andremo proprio al ventottesimo del primo tempo dove c'è stata un'occasione del Palocco, un'occasione molto importante e lì il Santa Marinella ha rischiato molto ovviamente, vedremo naturalmente questa occasione e dobbiamo dire eccola qua, questa è l'occasione del Palocco, vedete che c'è una rimessa un po' confusa da parte della difesa Santa Marinella. Sì, Tamaglio perde il pallone, Mattia Tamaglio, il cross al centro e Cesari da pochi passi, 4 metri alla porta, manda malamente alto. Sì, qui siamo al 35esimo, meglio. Sì, Ferro. Vedete Ferro e poi vedete anche Gagliardini che di testa la manca di un soffio, vedete? È finito dentro la porta e questa è una doppia occasione. La doppia occasione per il Santa Marinella. Adesso vediamo quest'altra... Questa è l'occasione del gol annullato a Ferro che secondo me era regolarissima. Eh sì, l'abbiamo visto a... Ecco, è rallent che Gagliardini parte da dietro, in posizione regolare, mette indietro per Ferro e butta il pallone dentro, ma l'arbitro annulla la sua segnalazione del guardegno. Qui siamo giunti dal 44esimo del primo tempo, vedete il gran tiro di Ferro con il portiere fuori, del primo tempo, e il giocatore che sbaglia... Siamo al secondo tempo, Gian Piedes. Questa è il tredicesimo del secondo tempo, è la grande occasione ovviamente di Ferro e poi vedete quella di Gagliardini che sbaglia di poco sotto, qui siamo al 31esimo, poi vedremo quest'altra occasione da rigore, vedete un intervento falloso in area da anni di Trebiso, Siamo al 36esimo minuto, vedete Trebisondi... Sempre Fontana, sempre Fontana. Sempre Fontana che lo atterra e l'Aigo invece non concede il calcio di rigore. Bene, torniamo in studio. Prima, intanto la regia prepara le interviste che abbiamo realizzato al termine dell'incontro. Insomma, diverse occasioni da gol. Buon Santa Marinella naturalmente che ha fatto vedere ancora una volta di prediligere il gioco della palla e non i calci lunghi come eravamo abiti a vedere anche negli anni passati, per cui una squadra che secondo il mio punto di vista sta dimostrando veramente di meritare questa terza posizione in classifica. Sì, sicuramente. Ha subito due sconfitte ingiuste con Città di Fiumicino e Focene che poi stanno posizionate nell'alta classifica, però ora la squadra di Domenici sta uscendo fuori veramente molto bene. Dal Tondici ha un organico di valore, di qualità, anche dei ricambi all'altezza e quindi secondo me Santa Marinella potrà recitare un ruolo da protagonista di primo piano in questo campionato. Ecco, dobbiamo mettermi in evidenza una cosa meglio di questa, che ovviamente quest'anno il tecnico può contare, almeno in panchina, di giocatori di un certo livello che possono sostituire degnamente i cosiddetti due vari, che poi titolari effettivamente non sono perché sono titolari anche quelli che stanno in panchina, perché gente come Murgante, come Galli e gente come Ferri Marini non possono essere considerati ovviamente dei panchinari, ma possono essere considerati anche loro titolari. Questo forse è la forza di questa squadra? Sì, sì, senz'altro. Poi dobbiamo dire che quest'anno ha anche dei giovani molto bravi, molto interessanti e poi ecco adesso sta per rientrare anche Marco Torinzi che sarà un valore aggiunto per questa squadra. È già mercoledì che ci sarà l'incontro di Coppa Italia sul campo del Tor di Quinto nell'andata dei sedicesimi di finale e già Torinzi dovrebbe giocare circa 20 minuti e mezz'ora nel secondo tempo per cominciare a riacquistare il ritmo ed essere già disponibile a tempo pieno per domenica prossima sul campo di Lito e di Pini. Indubbiamente sì, quindi mercoledì 14.30 a Roma naturalmente la Santa Marinella è impagnata dai sedicesimi, la partita di andata ovviamente, poi la partita di ritorno ci sarà due settimane dopo, quindi un'occasione proprio per la formazione di Gabriele Domenici di poter ottenere gli ottavi giocando appunto in casa. E poi bisogna anche dire, scusa Gian Piero, che la compagnia portuale sarà impegnata sempre mercoledì sul campo del Corneto d'Arquinia, questo è un mini derby, perché nel Corneto d'Arquinia migliorano diversi giocatori civilecchiesi, tra cui Spirito, Bisozzi, Ricco Bello, e quindi sarà una sfida tutta da vedere. Benissimo, allora la parola alla legia, vediamo l'intervista che è realizzata meglio al termine dell'incontro e poi naturalmente ritorneremo di nuovo in diretta con voi. Una partita sofferta, un 1-0 stretto, cioè un risultato che va stretto al Santa Marinella. Beh, diciamo per le occasioni che abbiamo avuto al primo tempo e anche Go annullato, che a parere di tutti era regolare, certamente è così, però ciò non toglie, a volte queste partite, questi risultati sono più belle vittorie, no? Sì, perché sono le più sofferte. Diciamo che la squadra in primo tempo ha giocato abbastanza bene, poi nel secondo si è tirata un po' troppo indietro, non ti pare? Beh, ripeto, come ho detto prima, se non concretizzi, poi giochi anche con gli avversari, che qui sì, poi Palocco non è l'ultimo arrivato, anzi, davanti era una bella squadra, ci ha messo un po' in difficoltà, però ciò non toglie. La squadra è stata compatta, il centrocampo ha aiutato molto la difesa e siamo riusciti anche con qualche difficoltà a portare a casa questo risultato che è quasi dell'impossibile. Ho troppe occasioni mancate però degli attaccanti del Sant'Amarinella, sia nel primo, soprattutto nel primo, ma anche nel secondo tempo. Sì, è vero, è vero, poi alla fine va in sofferenza, perché ripeto, giochi anche contro gli avversari, però ripeto, il calcio è questo, se non si riesce a concretizzare in tempi brevi, poi dopo si va in sofferenza, però ciò non toglie, la squadra ha dimostrato ancora una volta di essere buona, anche e soprattutto in un campo, al primo tempo abbiamo giocato eccezionale, però poi il campo era impraticabile, era impossibile giocare al calcio quasi. Terzo successo consecutivo, il quarto compreso anche la Coppa Italia, ecco questo Sant'Amarinella piano piano si sta inserendo nella classifica che conta. I risultati dicono questo, però noi pensiamo sempre domenica per domenica, il problema è che certo, è un buon periodo e vediamo da continuare così. Ecco, diciamo che la partita di oggi, diciamo che è sempre rovinata al campo, che è veramente pessimo, ecco nel primo tempo la tua squadra, diciamo, ha giocato molto bene, ha segnato il gol che poi è stato quello del successo, ne ha mancati altri, un gol annullato che sembrava regolare. Poi nella ripresa, insomma, si è un po' tirata indietro, questo è diviso diciamo da voi o dalla squadra avversaria? Io penso dalla squadra avversaria, perché se ci hai fatto caso, la squadra avversaria dopo 35 minuti, abbiamo 15 minuti al secondo tempo, ha messo 4 punte, a quel punto i 4 difensori con centrocampista rimanevano. Poi anche al secondo tempo, nelle nostre ripartenze, ci ha venuto sempre la possibilità da fare golle, però ci ha detto male, ma va bene così, non è che nel calcio giochi solamente da solo tu, c'è sta pure l'altra squadra, è giusto arrivare a vincere, però anche il punteggio non è che doveva finire 1-0, doveva finire 2-3-0, per me. Ecco, infatti, come dici tu, il Santonella ha fallito diversi, almeno 5 occasioni e poi c'è stato anche il rigore negato che sembrava netto su tre bisogni. Lo so, però va bene uguale, abbiamo vinto, i golli se sbaglio, io sarei contento di arrivarci sempre in porta, perché alla fine oggi siamo arrivati sette volte, abbiamo fatto un gol e se sei siamo sbagliati, è più un rigore che non ci ha dato, ma va bene uguale, non è importante che tu fai sempre gol. Quindi diciamo sei abbastanza soddisfatto della prova dei singoli e di quella collettiva? Io sono contento della squadra, perché se sta un momento bene va bene tutto, di tutte la rosa va bene così, in senso che la squadra sta giocando, chi entra quella mezz'ora venti minuti dal suo e va bene così. La squadra sta bene e speriamo di continuare sempre così. Una vittoria meritata, ma alla fine anche sofferta. Beh, sofferta, perché su questo campo è difficile giocare. Purtroppo noi siamo una squadra molto tecnica e delle volte ti trovi in difficoltà perché non riesci a fare quello che hai in mente. Comunque, sapevamo di incontrare una squadra aggressiva. Io penso che comunque il Santa Maria l'abbia disputato un'ottima gara e dobbiamo continuare con questa mentalità. Ecco, un'ottima gara soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa avete abbassato un po' il baricentro del gioco e diciamo che il Palocco ci ha creduto fino alla fine. Sì, queste sono partite che comunque hai la fortuna di andare in vantaggio e di gestirlo. Il secondo tempo ci siamo tirati leggermente indietro anche perché davanti è una squadra che quando perde cerca di fare il possibile per vincere. È normale che ti tiri un pochino indietro. Comunque non ci hanno mai pensierito. Io penso che è stata una partita giocata ottimamente e dobbiamo continuare così. Però troppe occasioni fallite da voi. Ma l'importante è crearle. Le occasioni, l'importante è che si creano. Poi si può fare golle, non si può fare golle. Ti fischiano fuori gioco che non c'è, magari. Quello non c'è problema. L'importante è vincere e andare avanti. Ecco, voi adesso siete in una posizione classifica abbastanza buona. Siete nella parte alta e pensate di lottare proprio per le prime posizioni fino alla fine? Ma io penso che bisogna ragionare domenica per domenica. Ora stiamo facendo bene, sappiamo che il campionato è lungo e bisogna continuare così. Ogni domenica è una partita a sé e poi a fine anno direremo le somme. Flavio Cagliardini ha realizzato il gol del successo. Una bella soddisfazione? Sì, una bella soddisfazione. Abbiamo preso altri tre punti importanti contro una buonissima squadra. Una, per lo meno dal mio punto di vista, una delle migliori, viste qui a Via delle Colonie fino adesso. Ci tenevamo a vincere per proseguire questo nostro cammino. È arrivata la terza vittoria consecutiva. Siamo tutti contenti. Voi nel primo tempo avete disputato un'ottima gara, avete creato molte occasioni, però le avete fallite. Da che dipende secondo te? No, l'unica pecca forse di questa partita è stato appunto questo, quello di non chiuderla nel primo tempo. Un po' per mia imprecisione, un po' per imprecisione di altri compagni, non ci siamo riusciti e abbiamo sofferto fino alla fine. Però anche soffrendo è arrivata una bellissima vittoria. Ecco, ma secondo te il gol che hai proviziato te e che hai realizzato Ferro era regolare? Ma il gol era regolarissimo, vi spiego perché. Perché Gigi, io ho dato la palla a Gigi sulla fascia e ho fatto un movimento a girare sul secondo palo. Gigi l'ha messa sul secondo palo, Simone era in fuorigioco in principio, però la palla è arrivata a me che non ero in fuorigioco, gliel'ho rimessa dentro a lui che poi è ritornato a far parte dell'azione, quindi era regolarissimo, ma era lampante insomma. Ecco, tu diciamo che stai migliorando di partita in partita, stai anche realizzando abbastanza, quindi qual è adesso la tua condizione? La mia condizione, come hai detto tu giustamente, sta migliorando di partita in partita. È normale che giocando 90 minuti tutte le domeniche acquisti sempre più condizione fisica e di questo ne sono felicissimo. Speriamo di continuare così senza fare troppi calcoli e troppi voli pindarici. Divertiamoci domenica dopo domenica e vediamo questa squadra dove può arrivare. Ecco, come dicevi della Coppa Italia, andate a giocare sul campo del Tor di Quinto, si gioca nei sedicesimi di finale. Ecco, ci puntate a questa manifestazione o diciamo che il campionato è prioritario rispetto a tutto? Diciamo che la società non ci ha posto degli obiettivi ben precisi, né in campionato né in Coppa Italia. Noi cerchiamo di andarci a giocare ogni partita per ben figurare qualunque sia la competizione. Sicuramente mercoledì qualcuno si riposerà, non tutti faremo un po' di turnovere anche perché è giusto dare spazio a tutti gli effettivi della Rosa. Andiamo là a Tor di Quinto a giocarci la nostra partita su un terreno sintetico ottimo, quindi cerchiamo di passare il turno anche in Coppa Italia. Eccoci di nuovo in studio, non so che cosa è successo a questa intervista, ma per cui diciamo che per quanto riguarda la promozione e chiudiamo qui a meglio, anche perché abbiamo detto naturalmente dell'appuntamento di mercoledì in Coppa Italia sia del Santa Marinella che della Compagnia Portuale, che sono le uniche due squadre di questo comprensorio che si sono qualificate al turno successivo. Noi passiamo al campionato di prima categoria, prego le regia di mettere in visione ovviamente i risultati di ieri. Guardiamo allora la classifica di questo girone. e vediamo che il Teverina è in testa con 14 punti, Viva Calcio e Vassanello 13, Veianese 12, CF Le Soccer, Montalto e Valentano 11, Anguillara e Ischia di Castro 9, San Lorenzo Nuovo 7, Belca Tarquigna 5, Fabbrica e Capranica 4, Trevignano 3, Allumiere 2 e Latera 1. Allora meglio, stiamo vedendo ovviamente la capitolazione praticamente da CF Le Soccer, che dopo i grossi problemi a livello societario e le dimissioni ovviamente dell'allenatore, adesso sta perdendo colpi e dal primo posto è balzata naturalmente alla quinta posizione. Sì, diciamo che è stata la prima sconfitta stagionale del CSL Soccer, che pure era andata per prima in vantaggio in questo sconto diretto con il Viva Calcio, era andata in vantaggio, in giubbio all'inizio del primo tempo con Bastianelli, poi ha subito la veemente reazione degli avversari che sono andati in gol tre volte con lo stesso giocatore Ercolini, che se vado errato era un giocatore che giocava anche col Tarquinia in eccellenza, quindi questo giocatore ha realizzato una bella tripletta che ha praticamente steso, messo al tappeto la formazione civile e chiese. Chi sta al tappeto è anche la Lumiere, perché è meglio che sinceramente non pensavamo che c'avesse questo inizio del campionato di Festeroso e appena penultima in classifica con due punti. Sì, sicuramente, la formazione di Brunori sta andando veramente male, di male in peggio direi. Anche ieri in casa vinceva per 1-0 grazie alla rete di Mollica, del difensore ex giocatore del Tolfa, e poi però ha subito questo ribaltamento del risultato da parte del Valentano che è andato in gol nel primo tempo, ha appareggiato nel primo tempo e poi nella ripresa ha realizzato il gol del successo. Quindi quando è all'allumiere si prospetta una stagione veramente dura, veramente difficile, però diciamo che in coda ancora è tutto rimediabile, perché ci sono 5-6 squadre tutte in giro di pochi punti, 2-3 punti, quindi ancora c'è il tempo per recuperare. Bene, passiamo al girone B, allora del campionato di prima categoria, c'è la formazione civita vecchiese, vediamo naturalmente anche questo girone, Aranova, Vigilurbani 1-2, Aurelio, Fiamme Azzurre, Centrogiano 1-2, Casal Bernocchi, Isola Sacra 0-0, Dragona, Tordecenci 3-2, Fiumicino, Calcio, Passo Scuro 4-1, Nuova Aureliana, Virtus Radispoli 0-0, Pian Due Torri, Olimpia 2-2, Real Portuense, Cere 0-1. Vediamo allora la classifica di questo girone, l'Isola Sacra e il Bernocchi sono in testa a 13 punti, Cere molto bene a 12, Fiumicino e Aranova 11, Vigilurbani 10, Nuova Aureliana e Dragona 9, Virtus Radispoli e Fiamme Azzurre 8, Olimpia, Pian Due Torri e Centrogiano 5, Tordecenci 4, Real Portuense 3, chiude il Passo Scuro con 2 punti, a meglio, dicevo, il Cere sta facendo veramente uno splendido campionato. Sì, sì, sicuramente, il Cere sta disponendo un ottimo campionato, e lo testimonia la classifica. Terzo, a non solo lunghezza di ritardo, della coppia di testa formata di Sola Sacra e Casal Bernocchi. Ieri il Cere ha spugnato il campo romano del Real Portuense, grazie a una rete realizzata proprio a una chiusura di gara in pieno recupero da Zimano. Dobbiamo dire che il Cere ha una squadra composta da giocatori che hanno militato molti di loro in categoria superiore, anche in eccellenza. Facciamo il nome, ad esempio, di Dayuto, Morasca, Iacovella, Vigneroli, Zimaro. E quindi è una formazione che potrà sicuramente ambire a disputare un campionato di vertice. E ancora la virtù della Dispoli, invece, segna un po' il passo. La virtù della Dispoli deve fare un campionato tranquillo, e l'obiettivo è quello. E fino adesso, diciamo, questo scopo è stato raggiunto. Anche ieri ha ottenuto questo buon pareggio ad occhiali sul campo dell'Aureano. Bene, passiamo alla seconda categoria. Allora abbiamo un minuto a disposizione. Vediamo il campionato di seconda categoria. Atletico Ladispoli-Tuscia-Foglianese 2-0. Bassano Romano-Santa Maria-Sunta 2-2. Canale Monterano-Cerveteri 1-2. Casal Lombroso-Sampio Decimo 1-1. Fortito Nebi-Virtus-Cimini 2-3. Manziana-Paridoro 1-0. Caprarola-Capranica 1-1. Viz-Bracciano-Oriolo 4-2. Vediamo la classifica di questo girone. Bassano Romano-16. Canale Monterano-13. Sampio Decimo-Capranica-11. Cervreti-Caprarola-Bracciano-10. Casal Lombroso-8. Ocaccio non riesco a interpretare bene cosa c'è scritto. Tuscia-Foglianese 7-0. Atletico Ladispoli 6-0. Manziana-Fortidono Nebi 5-0. Virtus-Cimini 4-0. Santa Maria-Assunta e Palidoro 3 punti. Emelio, un piccolo commento a questo girone? Diciamo che il DTM 84 Cervetri ieri ha compiuto un esploat andando ad espugnare il campo del Canale Monterano, un campo sempre molto ostico, il Canale Monterano che è in seconda classifica e quindi questo successo diciamo che proietta la formazione Cerite verso la classifica che conta. Benissimo, con questo commento di Emelio sulla seconda categoria chiudiamo questa trasmissione e noi ovviamente vi ringraziamo dell'ascolto, l'appuntamento ovviamente per lunedì prossimo. Gli appuntamenti calcistici sono per mercoledì alle 14.30 impegnate sia al Santa Marinella che alla Compagnia Portuale per la Coppa Italia e poi domenica prossima di nuovo giornata di campionato, vediamo che cosa succede. Grazie a tutti e a risentirci alla prossima occasione. Buonasera. Grazie a tutti.